buongiorno amici dei senza giacca e della pancia del tifoso fuori giornata grigia lunedì mattina presto giornata grigia piovosa freddo ma per noi giuventini c'è il sole fuori c'è un sole con dentro disegnati tre punti tre punti d'oro d'oro per la classifica e d'oro perché presi ai rivali interisti e questo lo sappiamo è un gusto sempre particolare ieri juve tosta battagliera convinta unita verso l'obiettivo verso l'obiettivo che adesso è nella classifica reale sette punti che mancano alla zona champions nella classifica virtuale più otto punti sul quarto posto più sei punti dall'inter stessa e più quattro punti sulla seconda lasciamo perdere il napoli che fa uno spettacolare campionato a sé ieri devo nominare in particolare due giocatori soprattutto uno ci tengo perché l'ho spesso fortemente criticato che locatelli l'altro fagioli locatelli ieri ha fatto una partita di lotta e di governo eccezionale fagioli ormai una certezza ed è un piacere vederlo giocare per come tocca il pallone e per che ogni volta che lo tocca non lo tocca mai ero in maniera banale sempre molto intelligente e credo che non sia un caso che le prestazioni di locatelli siano decisamente migliorate da quando fagioli gioca in pianta stabile in prima squadra non che non ci siano da nominare altri giocatori rabbio ha fatto una partita eccellente kostic ha fatto una grande partita è un bel gol pericolo costante su quella fascia agevolato da una marcatura di un lupris discutibile quanto meno e bremer e gatti eccellente in difesa senza nessuna sbavatura in particolare gatti viene da due prestazioni importanti a friburgo ed inter dopo che in tutte le altre apparizioni aveva mostrato lacune abbastanza marcate che ci facevano pensare che questo non fosse il suo livello prima di chiudere questo firmato mi devo parlare del delenatore delito non posso farne meno le sue dichiarazioni ieri cinque minuti finite finita la partita dopo che il var per tre minuti ha esaminato da ogni angolazione possibile il possibile tocco di rabbio e ha decretato che o non c'era o non era sicuro che si fosse bene anzaghi arriva alle telecamere e dice che lui l'ha visto il tocco di mano da venti angolazioni diverse venti angolazioni diverse lui aveva personalmente venti angolazioni diverse dove ha visto il tocco di mano di rabbio e in base a questo chiedeva rispetto rispetto cazzo rispettiamo rispettiamo l'inter rispettiamo in zaki noi invece io invece gli chiedo rispetto per una squadra che gli ha preso sei punti su sei il campionato che è venuta san siro gli ha lasciato il pallone ha detto farne quello che vuoi perché tanto non sai cosa farne e rispetto perché è venuta san siro senza i tre giocatori su cui è stata costruita di maria pobà e chiesa è venuta san siro con due giorni di riposo in meno rispetto all'inter che ha giocato martedì in coppa la juve giocato giovedì il problema è che siamo sempre lì ad attaccarci alle decisioni arbitrali quando sono dubbie a sfavore e mai quando sono dubbie o certe a favore e quello che fa un allenatore sostanzialmente inadeguato a questo livello è sostanzialmente tossico come persona questo è il mio pensiero buona settimana a tutti e buona sosta e fino alla fine forza juve